C'è un istinto che hanno i bambini che a volte ci insegnano perché a volte siamo così sprovveduti noi adulti che dovremmo avere gli occhi di un bambino per guardare la realtà. È stato l'impegno di una bambina di 10 anni di una scuola elementare della Riviera del Brenta a far tornare il nome di Gesù nel testo della canzoncina di Natale da cui era stato tolto dagli insegnanti per non urtare la sensibilità dei non cattolici. Un caso che ha fatto discutere che secondo il rettore della Pontificia Basilica di Sant'Antonio a Padova non aveva ragione di esistere. C'è ogni tanto questo ritorno di questi episodi che francamente faccio fatica a capire perché anche guardandoli dal punto di vista laico mi verrebbe da dire credo che non riconoscano la tradizione che è quella di un territorio, quella di una nazione, quella di una storia che deve tutto al cristianesimo onestamente, che deve tanto ecco se vogliamo dire perché non voglio esagerare. La religione racchiude un patrimonio anche culturale, ricorda padre Svanera, che è e dovrebbe rimanere condiviso si tratti di credenti o non credenti. Dal crocifisso al presepio passando attraverso la canzoncina mi parlo delle operazioni miopi che non sanno neanche riconoscere il valore della propria cultura che è una cultura che si fonda sul cristianesimo, sui valori che poi noi possiamo chiamare anche laici ma che hanno avuto sicuramente in Gesù Cristo che noi ricordiamo nel Natale un cardine della nostra storia.